che ne pensate della pista ciclabile vi sto facendo un video per quinta epoca la pista a 90 gradi ma la pista pure dovrebbe essere un metro e cinquanta ma perché non vi fanno lavoro un metro e cinquanta così le macchine le buttiamo tutte le buttiamo il tempo non è una città da piste ciclabili è vecchia perciò le piste ciclabili non vanno bene la macchina voi ce l'avete? certo c'ho la macchina, la bicicletta e la motocicletta e che usa di più? uso la macchina di più l'anziano piglio quella ma se dovesse pigliare la bicicletta per passare sul tragitto che hanno fatto mi fanno cascare duecento volte vedete con la bicicletta lei non ci andrebbe su questa pista? no 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 lei che dice? io vado in bicicletta io sono un ciclista però qui sopra non ci vado perché ci sono le chiavi che sono più basse del terreno e se disgraziamente prendono una chiavica già ci sono cascato sulla teverina io i tombini? ah i tombini capito? e poi è stretta no? quindi lei con la bicicletta la usa la bicicletta? la uso però non ci vuole solo la pista ciclabili vuole solo la strada quindi questa pista voi la bocciate? si si per carità ma le potevano fare un po' meglio questi soldi che non si cammina più con la macchina tutte buche, traffichi, intrigati che problemi ci sono nel quartiere? che problemi avete nel quartiere? se lei si fa un giretto vede quante soldi c'è tutta la carta qui ci fanno un mercato il martedì il sabato e per terra non si vede nessuno invece mette il prato le cose non so le marciapiedi non si passa da quanta terra c'è sopra da quanta erba per esempio adesso che hanno fatto questa pista ciclabile qui al campo sportivo tutte quelle gran macchine che vengono da fuori, Fulma, dove le mettono? dove le mettono? dove le mettono? a piedi a piedi dove? ma che cosa ne metto per la pista ciclabile? ah è la perfezione a Viterbo specialmente è la perfezione che problemi porta qui nel quartiere? tre biciclette ci vanno in giro ci vanno solamente quelle che portano le pizze alla sera e poi nemmeno vanno nella pista ciclabile perché pigliano le scorciatoie ma non pensate che con questa nuova pista più persone si utilizzeranno la bicicletta? no, questa nuova pista farà dei danni perché ci saranno degli incidenti specialmente dove saranno i corduli o i tombini perché la pista ciclabile deve essere liscia, non con i tombini ma ci sono anche i tombini? eh ci sono i tombini, ci sono i tombini che sono 5 cm in basso dell'asfalto prima quando vedremo gli incidenti che fanno su questa pista ciclabile ma non ci va la gente sulla pista ciclabile perché lui che va in bicicletta, lui che va fuori c'è la bicicletta da cotta che va sulla città ma qui non c'è nessuno, ma che ne sta a fare? c'è una cosa lei la usa la bicicletta? no la userebbe su questa pista? no c'è un'altra cosa che qui con le maglie che vengono su sono tutte sparate che corrono ci vorrebbe qualche dosso pure qui sulla strada pure sulla pista ciclabile perché parecchi possono impenare